Ciao ragazze, ecco un nuovo tutorial sarà una nail art per i piedi viola con pois, a pois e fiori con strass l'occorrente, uno smalto in gel viola uno smalto in gel perlato uno smalto in gel bianco, fiori degli strass questo è il risultato spero che vi piaccia, soprattutto guardate il video perché le foto fanno veramente pena rispetto poi a quello che è nella realtà che mi piace un sacco questa è la foto della mia nail art estiva da tra mani e piedi vabbè, iniziamo prendete un gel viola, io userò quello che mi è arrivato in premio della Professionals sendetelo come al solito poco prodotto in punta dovete coprire bene tutti i punti e anche il sopra diciamo che lo vedete un po' biancastro poi dovete fare una french non troppo troppo alta una cosa giusta per evitare di vedersi la ricrescita però che non sia troppo alta che stia comunque poi male perché è brutto vedere una french troppo alta sui piedi finito di fare tutta la french cosa fate? prendete un pennello pulito e togliete il diciamo, e delineate meglio la french per averla più dritta e pulite gli eventuali residui laterali dopodiché prendo un gel o uno smalto se avete perlato in questo caso perlato oro cosa meno risalterà al mare col sole e lo passate sopra alla vostra french dopodiché questa nail art prevede gli adesivi quindi prendo gli sticker sempre quelli presi in premio della Professionals prendo una pinzetta e evito possibilmente di toccarli con le mani le metto nel punto adeguato io ovviamente le ho messi al posto di dove c'era la botta dopodiché prendo il mio gel bianco per decoro da micropittura che non sbava e faccio con un dot con quindi lo spot faccio i miei puntini li faccio sia su tutte le unghie per abbellirlo un attimino ovviamente sulle altre dita dei piedi essendo molto piccole questi puntini dovranno essere il più sottili possibili dopodiché prendo una specie di strass che ho e lo metto al centro del fiore per abbellirlo di più come piace a me perché più abbellito è più mi piace poi così come vedete questo è il risultato finale con lucido belle lucide non si vede poi la botta né su un'unghia né sull'altra questo è il mio decoro spero che vi piaccia insieme alle unghie dell'estate spero ancora che vi piaccia anche perché dal vivo è molto molto bello e a me sinceramente piaceva un sacco ciao ragazze al prossimo tutorial mua grazie a tutti